Eeeh, vabbè, lì le skin fa schifo Massivi resist attacca, resiste per un turno, supreme damage, l'overse attacca Chi più 1 attacca def 200 Attacco garantito quando gli HP sono 80 or less Vabbè, minuti eh Silla l'attacco nemico quando gli HP sono 80 or less Quando attacca, vabbè, un'edizionale attacca def 100 quando performa una special Edizionale attacca def 100 quando c'è un altro universo 7 categorie che attacca lo stesso turno Eeeh, se tutti gli aliati sono universo 7, guardia contro tutti gli attacchi Oh, un piccolo con la guardia Torna a me di partecipare a chi più 1 attacca def 300, buff Non si sa di chi più 1 def 300 per gli aliati che sono universo 7 Vabbè, vabbè, questo piccolo non sembra proprio una boiata C'ha guardia, post special, comunque, essere tappabile, buffa la categorie Ma lo sai che è quasi quasi Non sembra maggio Peccato che c'è link da piccolo, eh Quindi, Namekians, Gears of Respect Io mi metto Gears of Respect Brainiac, Experience Fighter Frate, c'ha certi link, sto piccolo, metti di vergogna Però, ma questo poi, scusami, non era il piccolo Eeeh, quello contro, che è, universo 6, tipo Quello del virus contro Ciampa No? Buon me ricordo Scusami, questo c'ha Partecipante del torneo Però questo, essendo il piccolo di merda contro Ciampa Non prende gli universi che rubano al saga Veniamo a noi Abbiamo di nuovo piccolo in tornazione Dopo questa piccola problematica Che è piccola, ha i problemi Ma, grandi problemi Lui è piccolo, ma, ha grandi problemi Allora, vediamo un pochettino se riesce quantomeno a performare A girare, no? Allora, difesa 300 mira Con buffere in turno Non è malvagio A livello di link, vabbè Diciamo che piccolo sicuramente non è stato creato per linkare in un universo 7 Però il personaggio è un universo 7 Lo mettiamo prima dandoci a guardia Essendo una prima fase Poi lui sila pure Però mi pare che deve scendere sotto con gli HP Quindi, sì, la... Cioè, gli hanno messo il seal Già è una cosa che si attiva mai Gli hanno messo pure in base agli HP Però in realtà noi, ma ci prendiamo qualche hit Forse scendiamo di HP Vediamo No, vabbè Il funghi ritanca bene 7 milioni e 3 Comunque, questo qua, di base lo giochi Lo secondo e terzo slot Che può essere una valida alternativa Di base lo giochi terzo Ma proprio di base Visto che è da secondo Terzo in turno E un po' da psicopatici Però terzo Con guardia attiva Post special si buffa Lo build di full HUD Sto coso Ti buffa la turnazione Perché comunque è anche buffer Diciamo che... Ci può stare, dai È un buffer a girare Stana sul mezzo minore di def post special Non... Abbiamo visto di peggio, ecco Molto di peggio Però sicuramente Se uno deve andare a giocare Sto piccolo, no? Con tutti gli hit I personaggi che sono usciti Per universo 7 Diciamo che non... È l'ultima delle tue scelte Poco ma sicuro Però se... Non c'hai di meglio Cioè sto qua che sicuramente Ci avrai ability full O... Si avvicina E... Te lo vai a giocare Intanto è simpatico Ci può stare Prima cosa vorrei vedere Quando si prende da una special Post special Ma si prende Abbastanza Sto qua Massimo sta Ripeto Poco sopra il mezzo milione Mi pare che c'è qualche buff Post special E... Quindi in realtà Decente Dai Post che so Buffo Coltre istinto Tech Caricherà sugli 8-9 milioni Difesa sopra il mezzo milione Facile Tu lo metti a girare Non ti crea problemi Noi lo stiamo provando Quindi lo teniamo in turno Ma... Da terzo slot A meno che non te becchi la special Lì vabbè Ma voglio attirare cristoni E madonne Ma non... Non te fa schifo Ecco Chi è che ha messo Ste categorie a picco? Eh ma perché questo è il piccolo Non del torneo del potere Ma quello controciampa Quindi c'ha le categorie De controciampa Poi vabbè I link dei piccoli Sono sempre una merda Non... Non cambiano purtroppo Per fortuna Ti parte già con una base di ki Cioè non è difficile andare in 12 ki Perché se no Era veramente una cagata Qui l'abbiamo shottato Va bene Vediamo un po' Allora Non abbiamo il buffer Mi pare esatto Abbiamo Goku e Vegeta Cioè tipo adesso Tu fai sta turnazione Sei contento no? Goku primo Vegeta seconda E piccola rutare Che ti buffa la turnazione E' simpatico Cioè comunque Vegeta C'ha 700.000 def Con il buffer O Goku 400 Però noi visto Che stiamo provando piccolo Faremo questa bruttissima cosa Non lo fate a casa Naturalmente Però comunque Sta Permato di shiki Quasi Dai mettiamola così Vediamo un pochettino Quanto si Prende da Gogeta Senti me viene menato Un pochettino Vabbè qua Goku Oddio Non ci ho fatto special Quindi Purtroppo non possiamo vedere Post special Quanto prende Possiamo vedere i pugni Anche perché sto Gogeta Si è baffato l'attacco Ma non è che ne fa tantissimo Questo di danno Vediamo un po' Però ripeto Metti terzo a ruotare Il problema non te lo crea Il problema è se te lo loccano C'è il primo slot Frate fai una brutta fine Primo slot Non te lo dico proprio Secondo slot Te lo loccano C'è il post special Vediamo un attimo Quanto carica Senza buffer Quanto si prende Da post special Comunque sta sui 7 milioni E non sta linkando nulla Perché con i link Sta anche sopra A livello di pugni Di tanga C'ha permaguardia In questo team Perché tu lo vai a giocare Solo in questo team Senza guardia Sto cosa Non lo guardi proprio Però Ci sta È un buon il summon Dai Per Diciamo Completarvi un team Ci può sta Lo mettete terzo a ruotare Vi completate Un U7 Che non c'avete l'LR Per finirlo Ci può sta Dai Quando esce Beast Il 26 Eh ci aveva 100% di dodge Ci facciamo giusto Un ultimo turno Special all'inizio Aha Aha Oh 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 Vediamo Quel tristinto Che non doggia Oh 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 Facciamo così Abbiamo Un altro buffer Però dai Ci sta Simpatico Not bad Not bad Abbiamo visto dei piccoli peggiori Ma qui è partito Goan e coso E goliari No vabbè È un tappabuchi Rispetto ad altri Ezz Di solito I ressam Li fanno veramente Vomita Come Ezz Spesso a volte Cioè Questo è miracolato Questo gli hanno fatto Veramente il miracolo Di Dio Cioè Può avere un'utilità Cosa che non è semplice Certo Ti vai a prendere Una special Muori perché C'ha poca def Però Nel complesso È un buon personaggio Dai Messo a ruotare Si prende i pugni Di pugni di tank Certo Non si va a tankare Il Goku Della nuova blue zone Alzo le mani Ma sicuramente Non lo vai a giocare lì Vabbè Se stai giocando Quel piccolo Vuol dire che non c'è Il team completo Se non c'è il team completo Goku Non te lo vuoi a fare Cioè O comunque Bestemmierei parecchio Vediamo un attimo Quanto Mamma Comunque mi ricordavo Che tankava molto meglio Stavendo Mamma mia Annichilito Ah Ma abbiamo Questo è un buon turno Peccato che Come sempre Piccolo Linka di merda Facciamo così Oh Ci becchiamo Eh Cioè Piccolo Linka di merda Piccolo Linka proprio Ecco Questo è un problema Sicuramente gigante 300.000 def Allora Io non uso item Giusto per vedere Quanto ci fa la special Di Gogeta Mi vado a vedere Anche Sulla wiki Quanto Andava a caricare Ma giusto per farmi Un'idea Di Quanto può prendere Qua Quando non esce Beast Domani Sicuramente Non esce domani Ho sbagliato Mi pare che stava Sui 2 milioni E passa Gogeta Fase finale 2 milioni E 7 Sono di special Zizi Se piccola Riesce a tankare Sti 2 milioni E 7 Per me Ha vinto tutto Tipo Tankare In che senso Se prende mezzo milione Tipo Beerus Che pigiama Un personaggio Diverso da Beerus È perché C'è scritto Pigiamo Vediamo Con Riesis Arriva a 3.4 Vabbè 2 milioni E 7 Ce l'ha di base Perché poi c'è anche Il buff all'attacco Quello è un altro discorso Però comunque Ripeto Se non ci muori È una vittoria Ma Secondo me ci moriamo Però beh Ripeto Non c'ha mezzo link Che si attiva In sto team Porca troia Link con Bardak Super Saiyan 4 Ma non si mette vergogna Per le 130.000 Già dei pugni È vero che Piccolo post Special Un minimo 6 milioni E 4 Ma È proprio Io ho droppato L'attacco Vabbè Il drop L'attacco Compensa Il buff L'attacco Che fa Più o meno Vediamo Quanto prende A morire Ci moriamo Però Ripeto Se prende Solo mezzo Milione Ci sta No Non prende Solo mezzo Milione Vabbè Gli abbiamo Dato un try Però Ripeto I pugni Post special Con la guardia Attiva Ragazzi Siamo le mani Poi ripeto Non è un personaggio Che deve prendere special Ci può sta però Col supporto che dà pure Non si butta via Non si butta via Non si butta via Non si butta via